Un'emergenza nazionale prevedibile con 760 incendi nel 2017 a fronte degli 81 nel 2016, 560 ore di volo contro le 36 dell'anno scorso. Solo in Sicilia, la regione più colpita, 186 richieste tra il 15 giugno e il 15 luglio, 119 in Campania nello stesso periodo. A questo si aggiunge il calo delle persone e dei mezzi necessari per affrontare le situazioni di crisi. È in estrema sintesi la panoramica sugli incendi che si è venuta a delineare sulla base delle audizioni in corso al Senato e dalle parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Una delle cose che emerge immediatamente è proprio la disfunzione prevedibile della legge 177, senza voler entrare nel merito e dare giudizi sull'opportunità. È proprio questo passaggio che è ancora in itere che ha creato disfunzioni, perché noi abbiamo chiaramente un dimezzamento dei DOS, che sarebbero i direttivi operativi per lo spegnimento, che in Campania, per esempio, io gli dico i dati della Campania perché ci sono stati portati, perché noi abbiamo avuto audizione della regione Campania, dei carabinieri forestali e della protezione civile. Da 100 sono passati a 50, quindi in media si valuta un dimezzamento, così come c'è stato un passaggio dell'azione di coordinamento che prima era in capo al Corpo Forestale dello Stato, adesso in capo alle regioni che si sono, diciamo, dimostrate assolutamente impreparate a quest'azione. E abbiamo avuto anche un dimezzamento dei mezzi aerei, perché? Perché i 32 che erano del Corpo Forestale dello Stato sono stati divisi equamente, 16 nei carabinieri forestali e 16 nei vigili del fuoco. Però ai carabinieri forestali non sono state date le attribuzioni per lo spegnimento e di questi 16 mezzi, 8 sono adatti allo spegnimento di incendi boschivi, perché sono questi famosi NH500. E allora mi chiedo, ci chiediamo per quale motivo i carabinieri abbiano avuto l'esigenza di mantenere questi mezzi. Dopodiché c'è anche un problema sulla manutenzione dei mezzi che sono stati attribuiti ai vigili del fuoco e per cui alcuni erano a terra, non sono stati immediatamente operativi. Ma non è finita qui. Accanto al pasticcio fatto con gli accorpamenti dei forestali, denunciano i 5 Stelle, è stata infatti dimezzata anche la flotta aerea e i fondi della protezione civile sono diminuiti strada facendo fino a scomparire del tutto nell'ultima manovra di bilancio. Gli stanziamenti che sono stati negli anni dati alla protezione civile e alla manutenzione dei mezzi, dal 2007 sono scesi in maniera esponenziale. Questo sicuramente per una crisi economica indiscutibile, ma per le scelte di tagli lineari indiscriminati che non vanno fatti in quei settori dove un evento eccezionale ci porterà poi a delle spese quadriplicate il risparmio. Quindi è gravissimo. Una situazione particolare poi voglio denunciare della campagna e la leggo dalla relazione che ci è stata data dal vicepresidente Bonavitacola e che la campagna ha delegato alla SMA, che è una partecipata della regione che si occupa anche di depurazione, la mitigazione degli incendi buschivi e il contrasto attivo agli incendi e per un contratto, per una convenzione di circa 8,3 milioni. Mentre la convenzione con i vigili del fuoco, che tardiva perché ancora il 17 luglio era in fase di definizione, prevede soltanto uno stanziamento di 900 mila euro. Quindi io mi chiedo e vi chiedo cosa la SMA abbia fatto con questa attribuzione economica laddove è stato denunciato dai territori una mancanza sicura delle manutenzioni, perché i sottoboschi non sono stati puliti, non si è diciamo provveduto a liberare dai punti di appicciamento, di appiccamento del fuoco i sottoboschi. Infatti anche i piani anti incendio boschivi sono tardivi e comunque sono diciamo molto spesso, perché parlo di tutte le regioni in genere, così come le convenzioni sono tardive e spesso mancanti, laddove ci sono, sono diciamo una riconferma di quelle precedenti, laddove il quadro generale era di grandi allarme e non si è provveduto come si doveva fare. Da qui la decisione di presentare un pacchetto di 11 proposte che vanno dall'inasprimento delle sanzioni alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale, dall'incremento della flotta anti incendi al potenziamento delle risorse del comando carabinieri della tutela ambientale. Le proposte sono quelle che abbiamo affrontato in questi quattro anni di commissione ambiente, sia la Camera che il Senato. L'asprimento delle pene, più uomini e mezzi per fronteggiare quello che è stato, a tutti gli effetti un disastro ambientale. Parliamo di 46 mila ettari di incendi in tutta Italia, soltanto sul Vesuvio sono 1600 e il ministro dopo 40 minuti di audizione, 40 minuti di audizione, non ha saputo spiegare esattamente cosa è successo, cosa è mancato, quale disastro non ha saputo lui e il suo ministero portare alla ribalta nazionale. Ecco, c'è stata una pubblicità infame su quello che è successo in queste ultime due settimane. In tutto il mondo si è visto quello realmente che è il governo Renzi, Gentiloni e il ministro Galletti. Queste proposte sono 11 e come vi dicevo prima sono le stesse che abbiamo proposte in tutti questi anni, non siamo quelli del giorno dopo, del dopo emergenza, perché qui si parla sempre del giorno dopo, post terremoto, post alluvioni, post incendi. Sono proposte di buon senso che abbiamo definito nelle commissioni ambienti di Camera e Senato.